Ora io vorrei fare un appello ai nostri concittadini perché ci sia molto più rigore nell'uso della mascherina. Noi siamo stati l'unica regione d'Italia nella quale è rimasto sempre obbligatorio l'uso della mascherina sulla base dell'ordinanza della regione Campania. Non vorrei che dall'essere stati i primi in termini di prudenza diventassimo gli ultimi. Perché dal punto di vista dell'uso della mascherina continuo a rilevare troppa rilassatezza e pochi controlli sui lungomari delle nostre città, all'uscita delle scuole. Vedo in due terzi dei ragazzi quando escono dalle scuole che non hanno la mascherina, non è possibile. Allora faccio ancora appello alle forze dell'ordine, alle polizie municipali, perché si organizzino per controlli anche a campione, per mettere in piedi un'attività di dissuasione, per avere nei luoghi degli assembramenti una pattuglia, due pattuglie, almeno per richiamare soprattutto i ragazzi all'obbligo di indossare la mascherina. Sarebbe davvero paradossale che essendo stati l'unica regione a rendere obbligatorio l'uso della mascherina pure ad agosto, a luglio, a settembre, oggi diventassimo la regione più rilassata da questo punto di vista. Non va bene, non va bene, perché indossare la mascherina è un piccolo gesto di responsabilità che ha però una grande utilità dal punto di vista del contrasto al contagio.